Allahu akbar! Attacco con due granate alla sede del partito di governo Baat a Damasco. È il primo attentato nella capitale siriana da quando, otto mesi fa, scoppiò la protesta contro il presidente Bashar al-Assad, il quale, intervistato da un periodico britannico, afferma che un intervento militare contro la Siria scuoterebbe tutto il Medio Oriente. Farò di tutto per salvare il paese. Sono qui per servirlo, non è il contrario. Quindi non si tratta di me, ma della Siria. Il problema adesso non è il presidente, ma la stabilità del paese e la sua unità. Come possiamo mantenere la Siria unita? Se il presidente è fattore di unità, è il paese che deve dirlo. Se lui è un fattore di divisione, allora deve andarsene, l'attuale presidente o qualsiasi altro. Questo è il principio. Ma non è stato questo finora il problema. Gran parte dei siriani sono uniti. Quello che sta accadendo adesso è dovuto a una minoranza di militanti che ogni giorno uccide cittadini siriani.